Fermo lì, Martino mi ha detto tutto. Ne è valsa la pena scoparsi altre tipe, sei contento? Lo so che ci tieni davvero lei, vuoi parlarne? Magari domani vale. Dammi lì i soldi Nadia. Ah buonasera, posso sapere per che cosa ti servono i soldi? Per drogarmi o perché ti sei perso i migliori anni della mia vita, scegli tu. Che succede? Niente, mi dirai questi soldi se no? Te li do, te li do, però fai capire, è successo qualcosa con Martina? Guarda che puoi dirmi quello che vuoi. Anche se volessi che cosa ti potrei dire? Non ci riesco, non sono capace. Non importa, non importa Eros, non importa, non importa tesoro, non importa. Non importa, non importa se non sei ancora pronto, se non trovi le parole per dire quello che sei, come sei, chi ami. Cosa scusa? Io sono tua mamma, so tutto di te. Io lo so che sei gay. Cosa sono scusa? Ma tu sei quello che sei e non devi permettere a nessuno di farti sentire sbagliato. Da quando lo sai? Io lo so da sempre, io sono tua mamma, io so tutto. Quindi tutte le volte che te ne sei andata tu lo sapevi? Mi sono sempre sentito una merda in mezzo ai miei amici, mi sentivo diverso e tu lo sapevi? Sono dieci anni che mi nascondo in casa, Nadia, con mia sorella, con le brulle, tu lo sapevi? Eros... Stai zitta! Senti, Eros... Devi stare zitta! Non cridare, però... Curo! Non cridare, ma non cridare, ma non cridare, ma non cridare. Non cridare, ma non cridare, ma non cridare.